Juventus Udinese, le probabili la diretta. 3, 5, 1, 1, Zgzesni, Danilo, Rugani, Aleksandro, Mkegnie, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostik, Di Maria, Milik. 3, 5, 2, Silvestri, Belcao, Biola, Perez, Pereira, Lovric, Ualace, Arslan, Udogie, Beto, Succes. Juventus Udinese verrà trasmessa in diretta in esclusiva da DIAZN. Juventus a caccia dell'ottavo successo e dell'ottavo clan-shed consecutivi nel primo match casalingo del 2023. Che la vedrà in campo sabato alle 18 contro l'Udinese. La Juve è riduce dalla fortunosa vittoria di Cremona che le ha consentito di ridurre da 10 a 7 punti la sua distanza dal Napoli capolista. Avversaria della prossima giornata. Allegri recupera Di Maria, che partirà probabilmente dalla panchina come anche Chiesa. In difesa, per dirla all'Allegri, giocheranno tre fra Danilo, Aleksandro, Rugani e Gatti. Dato che bremerà un affaticamento. Nell'Udinese, reduce dal pareggio casalingo con l'Empoli. Sarà in campo l'ex Pereira, con noi ha fatto bene, ha detto Allegri, esterno di centrocampo Udogie sull'altra fascia. Grazie. Grazie. Grazie.